visitando la mostra io non nascondo una profonda emozione avevamo un autentico tesoro disseminato in quel corridoio del liceo un patrimonio di opere belle e preziose da fare in via applausonate gallerie d'arte quindi l'idea alla differenza, l'idea di migliorare, di cambiare molto bene, ancora complimenti a questo punto passiamo alla seconda parte della cerimonia ovvero la visita guidata dalle nostre professoresse e dalla dottoressa Streschi dei locali della galleria d'arte IAC e dei locali restaurati vedrete sarà una visita molto interessante grazie qual è il significato di questa galleria d'arte per il liceo? questa galleria d'arte che si intitola IAC, IACoponi Art Collection ha in primo luogo l'obiettivo di educare all'arte e alla bellezza i nostri discenti che possono vivere in prima persona l'esperienza estetica e quindi formare se stessi come persone in grado di avere una visione estetica e culturale di alto livello al tempo stesso questa bellissima galleria è un dono del liceo IACoponi da Todi alla città di Todi ci puoi illustrare il recupero dei nuovi spazi che lei ha curato? la scuola si è fatta carica del recupero di nuovi spazi di ristrutturazione in particolare è una casa di un custode che è stata adibita ora a sala di consultazione per gli insegnanti è un front office dove è stata ripristinata la parte originaria edilizia antica e quindi ha messo in risalto tutto il valore di questa scuola culturale e soprattutto di bellezza, di grande bellezza grazie